Fumi e profumi di venere, espanderci per ricondurre all'essenza, oltre i preconcetti, pronti a sbriciolare i concetti. Perché? Perché polvere siamo, polvere sarà tua sorella, noi siamo potenza e grazia. Noi siamo polvere di stelle, pronte a ricomporci in sempre nuove forme. E a te, mio lettore. Offro questi iscritti e ti invito a seguirci.